Possiamo dire che con questa nuova organizzazione si guarda sempre più ad obiettivi ambiziosi per il futuro. L'azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti Pescara incorpora dal 1 gennaio 2020 il centro-est e il centro-interno che avevano una valenza regionale del sistema camerale abruzzese. Cambia che queste esperienze positive che le due strutture già hanno fatto a livello regionale diventa patrimonio di questo sistema camerale Chieti Pescara. La nostra mission principale è quella di dare supporto e assistenza al sistema delle piccole e medie imprese e di in qualche maniera guardarle per aiutarle nello sviluppo economico sia del testo imprenditoriale ma anche del nostro territorio. Il sistema migliorativo per l'estero noi in questa nuova logica che è una logica che ha sempre contraddistinto l'azione dell'agenzia di sviluppo è un'azione in logica di rete, di complementarietà con quelle che sono le azioni positive che già avevano in essere sia il centro-estero soprattutto per l'estero in collaborazione con istituzioni quali lice a livello nazionale e la stessa regione Abruzzo che ha risottoscritto con noi una convenzione appunto per supportare le imprese nei mercati esteri. È chiaro che noi cerchiamo di supportare le aziende per dare loro effettivamente contezza di quello che in base alle loro possibilità e alle loro intenzioni possiamo supportarle nel loro progetto di innovazione organizzativa e lavorativa. Rispetto al credito è chiaro che rafforzare un'impresa significa renderla anche più credibile al sistema bancario.